Hai mai pensato di vendere i tuoi prodotti fuori dall'Italia o vorresti aumentare la tua quota di export? Pensi che la tua impresa sia troppo piccola per affrontare i mercati esteri? Forse non conosci ancora Savor Piemonte. Savor Piemonte è un progetto di promozione internazionale delle imprese piemontesi del settore agroalimentare e bevande realizzato dalla Camera di Commercio di Turino in collaborazione con partner italiani e stranieri. I prodotti made in Italy infatti hanno una destinazione privilegiata proprio in Asia, Europa e Nord America, tre aree che da sole coprono l'83% del mercato globale dei prodotti alimentari. Con Savor Piemonte ti offriamo la possibilità di sviluppare nuove collaborazioni commerciali. Prima ti prepariamo ai mercati internazionali con incontri e pubblicazioni sui paesi target del progetto e su temi come l'etichettatura dei prodotti destinati all'estero, la comunicazione internazionale, il business plan per l'export e il packaging. Poi organizziamo una vetrina virtuale per la tua impresa proponendo i tuoi prodotti a buyer internazionali. Infine ti offriamo servizi di assistenza individuale per perfezionare le tue attività di export mettendoti a disposizione risorse qualificate per operare con successo sui mercati di tuo interesse. Vogliamo promuovere le eccellenze piemontesi in modo integrato favorendo anche la collaborazione tra imprese diverse. In questo modo il pubblico straniero può realmente sperimentare la tradizione enogastronomica piemontese e trarre piena soddisfazione dal corretto abbinamento di gusti e sapori. Ad oggi ti possiamo proporre collaborazioni con buyer provenienti da Albania, Danimarca, Francia, Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Svizzera, Turchia. E questi sono soltanto i paesi europei. Ma Seivor Piemonte porta i tuoi prodotti anche in Canada, Stati Uniti, Cina, Giappone, India, Singapore, Thailandia, Vietnam e... sì, anche in Australia. Hai una piccola o media impresa alimentare? Hai la sede o un'unità locale in Piemonte? Tratti prodotti che hanno una denominazione di origine o che comunque fanno parte della più tipica tradizione piemontese? Non aspettare! Candidati subito a partecipare al progetto Savor Piemonte. La partecipazione è gratuita, ti chiediamo soltanto disponibilità, collaborazione e impegno. In cambio faremo conoscere i tuoi prodotti nel mondo. Grazie. 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 Grazie.